Se noi non riusciamo a trasmettere il valore che c'è dietro i prodotti agricoli ai consumatori finali, domani l'agricoltura sarà tutta in mano all'illegalità e allo sfruttamento dei lavoratori. Il Consorzio Altromercato nel 2012 ha deciso di avviare un nuovo progetto con il nome di Solidale Italiano Altromercato con l'intento di applicare anche in Italia quelli che sono i principi del commercio ecosolidale. Solidale Italiano è un marchio che garantisce l'etticità del prodotto. Io nelle parole solidale e italiano ci vedo un amore per l'ambiente, amore per la terra, rispetto per gli altri. Facendo l'agricoltura biologica cerchiamo di rispettare sia l'agricoltore ma anche la terra fondamentalmente. Ci vuole una presa di coscienza di tutti e in particolare dei produttori perché sono poi alla fine i guardiani della terra, sono i guardiani dell'ecosistema. Grazie a tutti!